Correva l'anno 2012 quando le regioni italiane rinunciarono a parte dei loro fondi europei del piano di sviluppo rurale e donarono 14 milioni per finanziare interventi di ricostruzione e rilancio produttivo delle tante aziende agricole devastate dal terremoto. Fondi inseriti nel PSR abruzzese, conclusisi il 31 dicembre. Fondi inseriti nel PSR abruzzese, che si è concluso il 31 dicembre. E oggi si scopre che solo una parte di questi fondi sono stati utilizzati. Sarà il Ministero con i suoi rendiconti a dire a breve quanti di quei fondi torneranno a Bruxelles. Questa volta però la colpa, assicura il nostro microfono Dino Rossi, esponente dell'Associazione di Allevatori Cospa, non è della lentezza burocratica e la misura ad essere stata concepita nel modo sbagliato all'origine. Tante aziende al palo e marturiate dalla crisi infatti, che pur avevano bisogno di quei fondi come ossigeno, non avevano a disposizione le somme necessarie a coprire il 50% di tasca propria. Chi poteva accedere a questo tipo di investimento riguarda solamente chi sta bene economicamente, perché si tratta di affrontare tutta la spesa, chiudere le quietanze delle fatture e poi aspettare che la regione diria il 50% di quello che praticamente è stata la spesa. Se non ce l'hai la banca ti chiede la fiduzione, la fiduzione va dietro garanzia, garanzia su un immobile che praticamente è diroccato, non te la fa nessuno, è come il cane che si porta la coda.